Il Consorzio Universitario Confartigianato e Confagricoltura hanno presentato lo scorso sabato i percorsi di alta formazione nei settori artigianato-moda, agroalimentare e servizi sociali del progetto Skill nella sede del Consorzio in Corso Vittorio Emanuele. Presenti alla conferenza stampa, oltre al Presidente del Consorzio Universitario Walter Tesauro, il Consiglio di Amministrazione e i Presidenti dei partner coinvolti, ovvero Tarcisio Sberna per Confartigianato e per Confagricoltura Gianfranco Lombardo. La progettualità vuole dare una risposta concreta alle esigenze delle imprese del territorio nisseno, competenze tecniche e professionalità in risposta alle esigenze del mercato che possano poi trasformarsi in opportunità di lavoro. Sono i progetti per avvicinare i giovani ad una crescita culturale e soprattutto ad una specializzazione. potranno servire sia per l'ingresso del mondo del lavoro che anche sotto il profilo culturale, diventerà anche oggetto di curricula. Devo dire che questo è rivolto al nostro principio che ci siamo imposti quando ci siamo inseriti, è quello di fare intervenire tutte le associazioni e abbiamo coinvolto tutte le associazioni di Calterissette. È per un ampliamento del territorio, per un ampliamento della partecipazione al territorio che si avvicina al consorzio universitario, che non è solo università ma anche corollario, quindi corsi, formazione, master e quant'altro. Tre i corsi attivati, quello di alta formazione per esperto in marketing, promozione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, poi il workshop enti del terzo settore, opportunità di impimenti, fiscalità e contabilità, e infine il corso su moda e tradizione artigiana. Caratteristica comune a tutti e tre i percorsi è quello della didattica delle competenze per imparare lavorando e imparare a lavorare. 120 le ore di training on the job contemplate, non ci sono limiti di età e le iscrizioni hanno come termine di presentazione il 23 febbraio e potranno essere effettuate sul sito uni.cl.it.